Il post mensile di maggio 2024 di Clément Lefevre, fondatore a capo del progetto Linux Mint, rappresenterà una nuova pietra miliare per definire l'identità e la missione del sistema operativo. Una decisa presa di posizione contro presunte limitazioni imposte da altri progetti open source cui Mint si affida. Come sempre accade, il vincitore è sempre l'utente di Linux Mint. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Lo si intuisce già dalla inconsuata lunghezza dell'articolo nel blog ufficiale di Mint che il post di maggio 2024 non è comune. Vi è una netta presa di posizione simile a quella legata all'abbandono dell'ambiente desktop KDE Plasma per Linux Mint, causata dall'impossibilità di rendere compatibili con esso le applicazioni specifiche di Linux Mint, le ex-apps progettate da Linux Mint per funzionare non solo su Mint ma ovunque, senza dipendere da uno specifico sistema operativo o ambiente desktop. Più di recente, dello stesso tenore, la durissima critica contro l'inganno del formato snap proposto da Ubuntu, bandito da Linux Mint dalla versione 20 in poi. Nel post di maggio 2024, Lefebvre, oltre a fornire nuove informazioni sullo sviluppo di Linux Mint 22, rivolge una critica contro presunte chiusure di alcuni progetti open source tra cui GNOME e in particolare ADO AITA. Scendo in dettagli tecnici per farlo e cercheremo di chiarirli quanto basta a comprendere la critica, la presa di posizione, l'apertura ad altri team ed il futuro stesso di Linux Mint. Il pomo della discordia va fatto forse risalire alle librerie GTK riconducibili al progetto GNOME. Le librerie sono collezioni di funzioni riutilizzabili destinate alla creazione di interfacce utente. Quelle GTK sono usate dagli ambienti desktop GNOME, MATE, Cinnamon, XFCE ed altri. ADO AITA è invece il nome del linguaggio di progettazione dell'ambiente desktop GNOME e anche il suo tema predefinito. Dal 2021 il progetto GNOME ha deciso di spostare i componenti grafici in una nuova e differente libreria chiamata Lib ADO AITA. Ciò ha permesso di risolvere numerosi problemi fondamentali con GTK che anche GNOME utilizza per costruire il suo ambiente desktop. Sfortunatamente l'annuncio ha anche portato a una significativa reazione della comunità. Non pare aver davvero rallentato l'adozione di Lib ADO AITA, ma sembra che alcuni utenti stiano iniziando a boicottare GNOME. Tutto ciò deriva da un cambiamento chiave in Lib ADO AITA. L'impossibilità di modificarne l'aspetto. Il problema come utente è che se hai preinstallata o installi un'app che ha Lib ADO AITA come dipendenza, cioè tra i requisiti per funzionare, come succede per la maggior parte di quelle GNOME, dovrai usarla con il tema predefinito di ADO AITA. Nessuna opzione per passare a un tema diverso. Il risultato finale è che le tue preferenze sul tema verranno ignorate. Insomma, utilizzare oggi una pur valida applicazione tra quelle aggiornate del progetto GNOME in un sistema operativo che non adotta tale ambiente desktop risulta limitativo. L'applicazione appare del tutto fuori luogo per il suo aspetto, a meno di non ricompilare dal codice sorgente la libreria ad ogni variazione del tema. Alcuni utenti ritengono questo un tentativo, da parte di GNOME, di bloccare il loro ecosistema di app. Tuttavia da GNOME sostengono che i temi di terze parti riducano la qualità delle applicazioni. Ma procediamo con l'ordine del post del boss di Linux Mint, che si apre proprio con una rinnovata dichiarazione di intenti legata al progetto X-Apps. Così sono chiamate le principali applicazioni tipiche di Linux Mint. Ci dice Lefebvre. Linux Mint è il più grande consumatore di applicazioni X-App, ma la ragione per cui X-App è stata creata come progetto era quella di far funzionare queste applicazioni ovunque e per tutti. Ogni volta che è stato avviato lo sviluppo di una nuova applicazione X-App, l'obiettivo era specificamente non renderla specifica per Linux Mint e o Cinnamon. In un momento in cui le applicazioni GNOME sono sempre meno progettate per funzionare altrove rispetto a GNOME, un progetto come X-App è estremamente importante. Molte X-App sono disponibili in altre distribuzioni, Debian, Ubuntu, Fedora, Archie, eccetera, ma pochissime distribuzioni effettivamente ne fanno uso. Lefebvre pubblica uno screenshot di Xubuntu 24-04. Tale sistema operativo, a causa della riorganizzazione delle GTK e di Lib a Duaita, è stato costretto a sostituire diverse applicazioni prese in passato da GNOME, con altre che non presentano gli stessi problemi. Ma Lefebvre assolve Xubuntu e anzi dichiara che la situazione è anche colpa di Linux Mint. Ora, perché è in parte colpa nostra? Perché non abbiamo mai bussato alla porta di XFCE e o abbiamo lavorato con loro. Hanno gli stessi problemi di noi, come Mate, come Bagi, come molti altri desktop. Abbiamo creato X-Apps perché ne avevamo bisogno in Mint, in Cinnamon. Non volevamo creare App Cinnamon, quindi abbiamo creato App Linux, che funzionano ovunque. Questo è stato sufficiente per noi, ma non è stato sufficiente per Xubuntu o altri Desto. Dal loro punto di vista hanno visto Linux Mint fare qualcosa nel loro angolino e distribuirne il codice, o peggio ancora, non hanno visto nulla. Ed ecco l'apertura in senso collaborativo di Lefebvre sul progetto X-Apps. Ciò che sarebbe dovuto accadere, idealmente sarebbe stata una maggiore comunicazione e un progetto X-Apps indipendente, non ospitato o gestito da Linux Mint, ma da persone provenienti da vari desktop e o distribuzioni. X-Apps dovrebbe essere una propria organizzazione, con i propri repository GitHub, Chatroom, sito web, ecc. Dovrebbe essere uno spazio che faciliti la collaborazione, la compatibilità e lo sviluppo di applicazioni che funzionano ovunque, non solo le app necessarie o mantenute da noi. Se vogliamo che altri sviluppatori e altri progetti lavorino insieme su software compatibili e soluzioni comuni, abbiamo bisogno di uno spazio come X-App. Ma questo spazio deve essere indipendente da qualsiasi ambiente grafico e da qualsiasi distribuzione per tutti, per sentirsi uguali e sentirsi benvenuti. Non solo sulla carta, ma in generale, nelle discussioni, nell'emancipazione e nel processo decisionale. X-App è su Matrix. Tutti sono benvenuti. Il responsabile di Linux Mint non è il primo ad affrontare in senso critico il tema dell'evoluzione di GNOME e del suo ecosistema. Che anzi, l'ambiente grafico Cinnamon fu concepito proprio come alternativa all'evoluzione di GNOME e più in particolare delle librerie GTK. Una posizione simile negli ultimi anni è stata presa da PopOS per il suo Cosmic Desktop dopo uno scambio pubblico di pesanti critiche con Adrian Plazas del team del progetto GNOME. Secondo Joshua Strobl, responsabile del desktop Bagi, usato dalla distribuzione Solus e dall'omonima edizione di Ubuntu, quando un ingegnere di System76 ha proposto miglioramenti al meccanismo di cambio colore di Lib Adwa Ita, questi miglioramenti sono stati respinti sulla base del fatto che ad alcuni sviluppatori di GNOME non piacevano le opinioni espresse dall'ingegnere sui social media. Fondamentalmente Lib Adwa Ita è pensata per essere una versione specifica per GNOME della versione 4 di GTK, con il progetto GNOME in pieno controllo dell'aspetto delle app. Essa prevede un gran numero di funzionalità che aiutano enormemente gli sviluppatori. Alcuni sviluppatori critici nei confronti di GNOME ci vedono però un intento specifico, una sorta di gelosia volta ad ostacolare la diffusione delle sue novità in ambienti desktop differenti. Insomma, Lefebvre titola un paragrafo del sostanzioso post Lib Adwa Ita è solo per GNOME. E in calza. Non importa cosa succede a monte, faremo sempre del nostro meglio per rendere ogni versione di Linux Mint un'esperienza migliore di quella che hai già. Le applicazioni saranno native e sembreranno native. Esse si integreranno bene. Se ti lasciamo scegliere un tema desktop, tutte le applicazioni installate lo supporteranno. Se un'applicazione non supporta Cinnamon, non possiamo rilasciarla nella nostra edizione Cinnamon. Lo stesso vale per Mate e XFCE. Sarebbe completamente inaccettabile per noi rilasciare con un'applicazione che utilizza i propri controlli delle finestre e non segue il tema del sistema. Guardandolo a lungo termine non vogliamo nemmeno che le nostre app siano progettate da persone che non hanno alcuna considerazione per ciò che è importante per noi e le cui decisioni sono motivate da un desktop che non usiamo nemmeno. Clem mostra l'aspetto di File Roller, l'applicazione dotata di finestra per la gestione di archivi compressi di tutti i tipi. Questo è File Roller 3.42. Questa applicazione è sempre stata etichettata come per GNOME, ma si è integrata bene in qualsiasi desktop GTK. Con File Roller 4.44 questo non è più il caso. Non è fatta per Mate, Cinnamon o XFCE e si vede davvero. Passando a GTK4, Lib Adwa Ita, questa app è diventata davvero un'app GNOME. Un'app che sembra specificamente progettata per GNOME e nient'altro. Il boss di Mint quindi prospetta alcune possibilità tecniche di intervento per affrontare la nuova situazione con Mint 22 e per il futuro. Complicate e non sostenibili nel lungo termine. Potremmo fare come Ubuntu 24.04. Forniscono un prodotto finito con un alto livello di integrazione. Il modo in cui lo fanno è modificare Lib Adwa Ita per sostenere il loro tema Yaru. Potremmo fare lo stesso con il nostro tema Mint Ypsilon. Farebbe sembrare tutte le applicazioni GNOME appartenere a Linux Mint, ma dovremmo rimuovere la selezione dei temi dal momento che funzionerebbe solo con Mint Ypsilon. A lungo termine non risolverebbe nemmeno il problema principale. Queste applicazioni sono progettate per un desktop sempre più diverso dal nostro di giorno in giorno. Non è solo una questione di temi o di look. Oggi queste app stanno perdendo barre dei menu, temi. Domani potrebbero non avere alcun punzante per la minimizzazione o nulla che GNOME non usi. Una soluzione, secondo Lefebvre, potrebbe essere quella di effettuare un fork delle applicazioni interessate dal passaggio al nuovo assetto di GTK4, ovvero prenderne i codici sorgenti e cominciare a svilupparne e mantenerne una versione alternativa che non ricorra al meccanismo incriminato. Ma dice anche che non è il momento adatto in vista del rilascio di una nuova versione cosiddetta maggiore del sistema con Mint 22 in estate. Ci spiega quindi che con Mint 22 il tema grafico ADO AITA sarà rimosso. Anche il visualizzatore di caratteri GNOME Font Viewer sarà rimosso e alcune applicazioni saranno rese compatibili con la libreria GTK3 invece della 4. La calcolatrice, il riproduttore multimediale celluloid, il programma per le scansioni Simple Scan, quello per l'analisi dello spazio su disco Baobab, il monitor di sistema, il calendario, il gestore archivi e Zenity. Queste applicazioni saranno molto probabilmente forcate nel prossimo futuro, ad eccezione di Zenity che probabilmente smetteremo di usare del tutto. E conclude l'intervento sul tema con un nuovo messaggio di intenti per il futuro di Linux Mint e dei suoi utenti. Lib ADO AITA è per GNOME e solo per esso. Non possiamo colpare GNOME per questo. Sono stati molto chiari su di esso fin dall'inizio. È stato realizzato appositamente per GNOME per avere più libertà e costruire il proprio ecosistema senza influenzare GTK. Vogliamo inviare un segnale forte a monte e verso altri progetti. Non possiamo e non supporteremo le applicazioni che non supportano i nostri utenti e relativi ambienti grafici. Non possiamo promuovere applicazioni per i nostri utenti che non supportano i nostri utenti. Il gestore del software sarà vigile verso questo in futuro. Malgrado l'importanza del tema non si può sottovalutare la rilevanza di un'altra questione che il post di maggio 2024 nel blog di Mint propone. Si tratta di un'altra importante novità di Mint 22 quanto a sicurezza in ragione dell'integrazione del formato alternativo di programmi Flatpak. Leggiamo. In Linux Mint è sicuro aprire il software manager e installare Google Chrome? Sì? No? Beh, dipende e non ha nulla a che fare con quanto ti fidi di Linux Mint o Google. Devi fitarti di Refix 64 perché non sono né Mint né Google ad aggiornare il Flatpak per Chrome. È qualcuno che si chiama Refix 64 su internet. Ora, si dà il caso che Refix 64 sia un ottimo sviluppatore. Il problema non è Refix 64. Il problema è che tra i 6 milioni di persone che hanno installato il suo Flatpak, pochissime persone sanno chi sia Refix 64. In Flathub un'app verificata è un'app pubblicata dal suo sviluppatore originale o da una terza parte approvata dallo sviluppatore. Chrome è pubblicato da Refix 64 ed è quindi non verificata. Al momento il 42% dei Flatpak sono stati verificati da Flathub. Lo store sta effettivamente cercando di verificare le app, soprattutto ora dopo la storia di XZ e il malware più volte iniettato nello Snap Store. Questo è Chrome nel gestore applicazioni di Linux Mint. Non c'è alcuna menzione di Refix 64 qui. La situazione online sul sito Flathub è un po' meglio. L'app è mostrata come non verificata, ma devi ancora scavare per trovare chi la sta mantenendo. Siamo stati fortunati finora. Dobbiamo davvero agire. Aggiorneremo il Software Manager per non mostrare i Flatpak non verificati per impostazione predefinita. Quando vengono mostrate, le app non verificate avranno un punteggio di 0. Il punteggio può aiutare un utente a costruire la fiducia verso l'applicazione. Ma il problema qui non è l'applicazione. È il fatto che i manutentori non sono quelli che la gente crede che siano. Quando mostrate, le app non verificate saranno chiaramente contrassegnate come non verificate. Potrebbe non essere una decisione popolare, ma pensiamo che sia molto importante. Nel momento in cui malware colpisse FlatHub, speriamo che queste misure e le misure adottate da FlatHub riducano al minimo il numero di utenti esposti e aumentino la consapevolezza dei rischi. Nel caso di XZ, il manutentore avrebbe dovuto essere verificato. Il malware in XZ ha colpito Debian SID, la versione non stabile, ma non è mai entrato in Debian Stable, Ubuntu LTS o Linux Mint. Questo ci porta al recente clamore suscitato dalla falla scoperta in un componente software di Linux con una mossa molto ben orchestrata a minare le basi dello sviluppo collaborativo di software. Prosegue Lefevre. A differenza della base Debian che richiede mesi o addirittura anni per venire stabilizzata e arrivare a te, un FlatPack aggiornato dal suo manutentore può raggiungere milioni di utenti quasi istantaneamente. Noi consigliamo aggiornamenti automatici, anche per motivi di sicurezza. Quando si tratta di FlatPack, il rischio non è preso solo al momento dell'installazione, è preso con ogni aggiornamento, in un momento in cui potresti anche non pensare a FlatPack. Questo è più rischioso dello scenario in cui utenti Windows scaricano software da siti web casuali, perché è il gestore aggiornamenti a supportarlo. Devi davvero fidarti quando scarichi il tuo software e nel nostro software manager non ti mostriamo le informazioni di cui hai bisogno per prendere decisioni informate. Ci ritorneremo al più presto. Grazie per la vostra attenzione su questo importante argomento. Il posto si conclude con una nota di modifica. Traduco. Refix64 non era a conoscenza del fatto che la sua identità fosse pubblicamente disponibile e ha chiesto che il suo vero nome non fosse pubblicato. Questo articolo è stato modificato per rimuoverlo. Ricapitolando, il team di Linux Mint dimostra ancora una volta indipendenza e onestà intellettuale tali da non sottomettere l'interesse dei propri utenti ad alcune logiche non proprio apprezzabili che si stanno facendo ultimamente strada nello sviluppo di progetti open source. Lo fa forte dei quasi vent'anni di enorme popolarità del suo sistema operativo, dell'affetto e del contributo di tutti i suoi utenti e di alcune sponsorizzazioni. È mio parere che certe questioni, come l'abbondanza di scelta di sistemi o ambienti grafici con cui interagire con Linux, oltre a rappresentarne in un certo senso la forza a favore degli utenti già smaliziati con Linux, presti il fianco a quella eccessiva frammentazione che impedisce al pinguino di affermarsi e sbaragliare la concorrenza non solo in ambito server e cloud ma anche sulle scrivanie di utenti comuni. Siamo in prossimità della scadenza biennale che nelle stati degli anni pari vede il team impegnato nel rilascio di una versione completamente rinnovata del sistema operativo. Come sempre per vedere Mint 22 non abbiamo una data. Alcune volte l'efevre si è sbilanciato e poi alcuni intoppi hanno indotto il team a posticiparne il rilascio. Del resto Linux Mint è una distribuzione lenta, stabile e cauta, quindi i suoi utenti non dovrebbero strapparsi i capelli per l'attesa. Altre novità, forse meno eclatanti di quelle citate e oggi attendono gli utenti di Linux Mint 22. Se ritieni che potrebbero interessarti anche prima di una mia recensione del sistema operativo dopo il rilascio stabile, fammelo sapere. Ci tengo anche al tuo parere su questi aspetti, se ne hai uno. Nel frattempo ti ringrazio per la visione del video e ti rimando alla prossima. A presto.